Ciao bimbi! Oggi vi leggerò una storia facendomi aiutare dei personaggi. Leggeremo insieme il libro delle emozioni. Siete pronti? Ciao! Io sono Gioia! Io porto la gioia e la felicità. Ci sono tante cose, sai, che ci fanno essere contenti. Come i dinosauri, come i dolcetti dolcettissimi e le scimmiette. E soprattutto però ho capito che sei felice quando stai con la tua famiglia e con i tuoi amici. Gioia! Mi hai prestato un piede! Uffi! Cerca di stare attenta! Dai, tristezza! Non ti ho fatto niente! Scusami! Ciao! L'avete capito, vero? Io sono tristezza! Ci sono tante cose che proprio non capisco. Per esempio, perché mi cade sempre, sempre il gelato? E perché mi si rompe sempre la punta della matita? Uffi! Che cosa mi piace? Mi piace piangere! Perché poi mi sento meglio! Ehi ragazzi, qui c'è poco da scherzare, eh! Io sono rabbia! Ok? Quando non sono arrabbiato, sono furioso! È inutile che provate a fare i simpatici, a essere carini con me! Non c'è storia! Io sono uno di quelli che in mezzo al traffico strombazzano il clacson! Buu! 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 Lasciatemi passare, forza! Via! Io invece sono disgusto! Esistono tante cose disgustosissime! Come, per esempio, i calzini puzzolenti e umidicci! Buu! Buu! Sono i granchi! Sono più umidici dei calzini puzzolenti! E l'altra cosa schifosissima e puzzolentissima è l'odore di sudore! che si può risolvere solo con un po' di diodorante! Ora va un po' meglio! Io sono pa, 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 paura! Ogni minuto passato senza spaventi! Per me è un vero successo! Le cose che mi fanno più paura sono le scale che portano in cantina e l'aspirapolvere! Ora vi dirò che cosa mi piace! Mi piace stare ben al sicuro! Amo starmene seduto bevendo una bella tisana e guardando un bel documentario sui pulcini! Che paura! Ho detto pulcini! Non i popotami! Bimbi, la storia è finita! Adesso con la mamma o il papà potete provare a verbalizzare quelle che sono le vostre emozioni e a costruire anche voi i personaggi di Inside Out! Ok, bimbi! Alla prossima!